Ecco, che facesse il protagonista, sì, anche Friccio ci è sempre seduto, ho insistito a portarlo per questi tre anni che non veniva preso, però il cavallo ha dimostrato, mi sembra, è adatto, c'era stato, diciamo, mi sembra, questo binomio era abbastanza buono, insomma, felicissimi che sia tornato in scuderia sano e appostissimo, come se nulla fosse successo, mi sembra, perché è stato veramente un caso fortuito. Poi ora va al prato, al riposo e poi inizieremo gli allenamenti per il 2012, ad un cavallo che ci monta un bambino sopra, insomma, ecco, e io sono un po' ammaleggiato appunto, perché questo incidente, ripeto, volevo finirsi il palio, insomma, ecco, meritavo, purtroppo il palio c'è sempre gli imprevisti. Sì, questa mattina si continua a fare le feste, a festeggiare i guests e questa è la cosa, diciamo, più bella, insomma, ecco.